...che vale un'intera stagione, è la partita alla cui uscirà il nome della nuova regina d'Europa, è la finale della Champions League. Buonasera la Piero Geparda e l'Elia Dani, il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, il giorno della finalissima per decretare la nuova regina d'Europa. Si gioca per la storia, per un posto nell'elite del calcio europeo e mondiale. Di fronte ci sono Borussia Dortmund e Real Madrid. Ma non ci sono proprio discussioni, la finale della UEFA Champions League è sicuramente tra le partite più ricche di fascino, tra le più importanti, se non la più importante in Europa a livello di club. Ma vincerla può cambiarti la vita, stiamo parlando di una competizione che in passato ha visto trionfare campioni che hanno fatto la storia di questo sport. Di che parliamo? Occhio al pallone per il possibile vantaggio! 1-0 Real in questa tirale di Champions! Il replay del gol evidenzia il cross calibrato alla perfezione, bisognava solo spingerla dentro da lì. Ha infilato il portiere con una conclusione forte, precisa, imparabile da quella distanza. A volte le soluzioni più semplici sono le migliori. Si riprende a giocare con il Dortmund sotto di una rete. Occhio a Sancho! Vincere uno contro uno! Brantz! Il pubblico lo spinge a tirare! Intervento decisivo! Sarà calcio di punizione per il Dortmund! Punizione calciata davvero male qui! Ha provato la conclusione, era difficile segnare da quella distanza e c'erano sicuramente soluzioni migliori. Carvajal! C'è la tush, si riparte con la rimessa laterale. Mendy! Vinicius! E c'è il gol! Adesso sono due le reti di vantaggio con i tifosi che già sognano la Coppa! Esecuzione che merita di essere rivista. Ha calciato all'interno imprimendo il giro giusto alla palla e l'ha mandata a infilarsi alle spalle del portiere. Un concentrato di tecnica e precisione. Punteggio che è cambiato, ora conducono per due reti a zero. Rodrigo. E c'è il gol! Non si fermano più! E allargano ulteriormente la distanza con gli avversari. Replay che ci permette di apprezzare la bella girata di testa con cui ha battuto il portiere. L'ha indirizzata alla perfezione. Gara che riprende con un distacco enorme. Un Real fantastico fin qui. Sancho. Prosegue qui nell'avanzata. Efficace la pressione della difesa. Recupero del pallone. Può venire avanti. Occhio al Troster-Bellingham. Il recupero di Hummels. Sancho. La recupera bene Chouamemi. Apre su Valverde. Il fischio. Rigore per il Real. Rigore per il possibile 4-0. Frettissimo dal dischetto. Beh, i rigori sono sempre una guerra di nervi tra chi li calce e chi deve pararli. Nell'occasione il portiere ha provato ad anticipare le intenzioni dell'avversario battezzando un angolo. E ne è andata male. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Sulla fascia a prova a salire Vinicius. Occhio al croce di Vinicius. Il recupero di Hummels. L'arbitro fischia e manda le squadre a riposo dopo i primi 45 minuti. Secondo tempo. che parte con l'obiettivo rimonta per il Dortmund. Sarà calcio di punizione per il Dortmund. Sbaglia il tocco Hummels. Palla che esce. Sarà falo laterale. Dortmund che perde un pallone banale. Guadagna metri. Occhio a Belling, ha servito bene. C'era rispinta del portiere. Occhio, l'azione non è finita. Palla messa fuori dalla zona pericolosa. Rodrigo. Punizione. Da lì possono chiaramente essere pericoloso. Palo si continua a giocare. A metri per andare. Palla che sfiora il palo e poteva meritare maggior fortuna. Hummels. Trova Sabitzer. La legge bene e intercetta. Non è solo. Palla buona per Bellingham. E c'è il gol. Ne hanno fatto un altro. Ormai hanno perso il conto. La partita davvero a senso unico. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato il gol. Ne è scatolita una conclusione. Il volo secca, precisa. E la palla è andata in gol. Perdono palla. L'azione sembrava interessante. Sabitzer. C'è il tocco addirittura verso il portiere. Brandt. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Ci sarà un calcio di punizione per i Borussia Dortmund. Chiedevano il giallo per questo intervento ma l'arbitro non è stato dello stesso avviso. Gli ha fatto capire chiaramente che questo è l'ultimo. Al prossimo fallo scatterà automaticamente la sanzione. Sabitzer. Riconsegnano palla gli giocatori del Dortmund. Apre su Valverde. Cross sul secondo palo. Rinvia Umbels. Difesa che respira. Contrasto efficace. Ancora tre minuti prima del fischio finale. Si libera a spazio. Possesso palla interrotto. Salta l'uomo. Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. E con questo sono tre, Piero. Tripla. Che sottolinea l'ottima prova sua di tutta la squadra. Si merita questo replay. Umori molto diversi in campo, Lell. Da una parte c'è la disperazione. Dall'altra la gioia incontenibile. Di chi sa di aver scritto il proprio nome nella storia del calcio. Vincendo la UEFA Champions League. Per loro è una festa grandissima. Si meritano questa vittoria per come hanno giocato durante tutta la stagione. Se ci pensi, non hanno mai avuto dei grossi cali. E anche nella partita di oggi la vittoria è strameritata. Non sei d'accordo, Pier? Sono d'accordo. Cavalcata indimenticabile. Sarà una lunga notte di festa. Per l'ennesima volta il Real Madrid scrive il suo nome su questa coppa, su queste grandi orecchie, sulla UEFA Champions League. A coronamento di un'altra andata straordinaria per questo gruppo che adesso, ovviamente, ne ha pieno diritto. Può lasciarsi andare ai festeggiamenti. Che stagione. Ma che stagione. Non hanno mai mollato. Hanno lottato partita dopo partita fino al traguardo finale. Passando dalle difficoltà della fase Gironi. Vincendo gli scontri e l'eliminazione diretta. Meritano senza alcun dubbio di essere incoronati. Oggi, qui, e di essere diventati campioni d'Europa. Eccolo il momento. Stanno per alzare al cielo la orejona. La coppa dalle grandi orecchie. È la festa del Real Madrid. I tifosi sono impazziti sugli spalti. Mentre in campo la squadra porta in trionfo la coppa. Il pubblico ha sostenuto la squadra anche nei momenti più complicati. partecipando attivamente alla conquista di questo trofeo. Hai detto bene, Pier. Sono stati il dodicesimo uomo in campo in molti incontri. Ora è giusto che possano festeggiare. E lo devono fare insieme ai calciatori. Foto e ricordo. È il momento della festa per i nuovi campioni d'Europa del Real Madrid. La coppa dalle grandi orecchie. La UEFA Champions League. È nelle loro mani. La UEFA Champions League. La UEFA Champions League.